Stasera, con inizio alle 18.30, seduta del Consiglio Comunale Oristano. Non una semplice seduta però perché in ballo ci saranno parecchie varianti, non esclusa la bocciatura, dovuta a un eventuale numero non sufficiente a garantire la validità della stessa. Il problema del numero legale sarà esclusivamente di competenza della maggioranza, che a quasi 5 mesi dal voto si è preoccupata maggiormente di litigare, di discutere, di pensare alle poltrone che non a lavorare per Oristano. La città ha bisogno di un'amministrazione che sia efficiente, di un'amministrazione che pensi alla città e non solo a spartirsi le poltrone. Se poi il sindaco dovesse rendersi conto ovviamente che i numeri non ci sono, magari sarà il caso di pensare di tornare alle urne. Tante le varianti che potrebbero portare uno scivolone e che avrebbero ripercussioni pesanti sulla giunta del sindaco Massimiliano Sanna. Da registrare il malumore dei riformatori, che assolutamente non vogliono Carmen Murru al posto della Bonaglini, assessora uscente. Stessa determinazione da parte dell'Udc, che invece adesso, con 5 componenti nel gruppo, vuole solo e soltanto la più votata dei cittadini, titolare dell'assessorato da lei già occupato nella giunta del sindaco Andrea Luzzo. Date le assenze già sicure e giustificate, potrebbero essere le stampelle prestate a dare forza a questa maggioranza. Di fronte a una situazione come quella che oggi è evidente e che è un chiaro segnale di crisi da parte della maggioranza, è chiaro che quelle ripercussioni che oggi un affatto del genere può determinare si rivolgeranno negli interessi della città.